C'è una riformulazione, accetta la riformulazione? Sì, va bene, andiamo avanti. Abbiamo il 12 di Gioia, c'è una riformulazione, va bene, deputato di Gioia? Non c'è, mi pare. Mi date un cenno? Sì, deputata Mangello. Sì, io sono la seconda firmataria di quest'ordine del giorno. Chiederei al Vice Ministro Olivero se fosse possibile anche cambiare la sua posizione in merito all'ordine del giorno, in cui non abbiamo fatto altro che chiarire quali sono le funzioni e competenze della Zecca dello Stato e di chi sono le competenze per quel che riguarda l'affidamento a tipografie autorizzate, chiarendo un emendamento che è stato fin qui approvato. Io chiedo al Vice Ministro Olivero di modificare la sua posizione. Grazie. Sì, Vice Ministro. Accolgo l'invito denorevole, quindi favorevole senza riformulazione. D'accordo, va bene, il parere è favorevole, vado avanti. 13, gli annuzzi, il parere è favorevole. E poi 14, Taricco, il parere è favorevole. Bene, allora, adesso passiamo al voto finale e quindi a facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Lello Di Gioia. Però non è rientrato nel frattempo, quindi andiamo avanti. Do la parola al deputato Oreste Pastorelli. Grazie, Signora Presidente, Signor Ministro, onorevoli colleghi. La straordinaria qualità dei prodotti vinicoli italiani è nota in tutto il mondo, ma per garantire tale eccellenza e tutelarla dai costanti tentativi di contraffazione è necessario aggiornare in modo puntuale il quadro regolatorio.